ragazzi buongiorno oggi è mercoledino martedì già sto avanti nel futuro io allora da stamattina mi sono messo a fare altri esami sul bootcamp di youtube e mi stavo quasi dimenticando di mettere a caricare il vlog di ieri e meno male che mi è venuto questo lampo di genio ho detto un momento ma io sto dimenticando una cosa importante e comunque ad ora ne ho fatti uno due tre quattro cinque sei sette questo è un capello ne ho superati sette ce n'è uno che mi sta dando un poco di problemi perché in qualunque modo rispondo la percentuale è sempre la stessa e quindi non capisco se sto sbagliando io qualcosa oppure sono i cookie che lo stanno facendo impazzire e quindi ovviamente mi sono deciso a metterlo un attimo da parte faccio gli altri e poi ritorno su di lui magari dopo che faccio un po di pulizie nella shake cage cioè quello sto da qualche giorno in verità con una specie di intorpidimento alle mani però non è come quando si addormentano è un prurito costante allora siccome nel video che vi ho fatto vedere di sabato o di venerdì che camminavo in mezzo al polline quindi sono stato a contatto con il polline non vorrei che sono diventato allergico che comunque mi ha dato problemi di allergia quindi quello che sto cercando di fare è farmela passare assumendo una pillolina di antistaminico e mi sono accorto che è scaduto da sei mesi sto perdendo un sacco di capelli comunque questo fatto che ho preso l'antistaminico mi sta portando sonnolenza e l'ho preso neanche un'ora fa quindi c'ho un sonno di pazzi e sono proprio stanco in questo momento ho aggiornato un altro capello però sulla tastiera no ho aggiornato i miei progressi su youtube in modo da capire quanti esami mi mancano in questo momento me ne mancano da fare sette responsabili attività fai della tua passione un lavoro come creare un canale di bellezza creare canali di musica coinvolge la community incoraggia il pubblico a guardare altri video creare il brand del tuo canale sono questi gli ultimi esami che mi mancano ora devo fare proprio crea il brand del tuo canale penso visto anche il lavoro che faccio debba essere una cosa molto semplice e tornerò ovviamente a guardare cioè a montare il video per recenza perché sennò per venerdì non ce la farò mai torno a lavorare e a lavorare a studiare e ci vediamo dopo dio mio questo antistaminico è tremendo aiuto non sono di pazzi mi mancano quanto uno due tre quattro sì me ne mancano solo quattro di esami di youtube ho finito tre sono da 15 domande uno e da 24 nel frattempo per staccare perché sennò impazzivo ho anche iniziato anzi continuato a montare la puntata per venerdì e mi manca semplicemente da aggiungere eventuali foto la grafica poi del canale la tradizionale quindi è quasi finito e stranamente la cosa mi sta piacendo finalmente sono riuscito ad arrivare sui 10 12 minuti per video difficile che ormai sto superando i 15 minuti quindi dopo un anno ci sono riuscito a essere meno pesante per voi per voi che mi seguite su recenso quindi mi raccomando iscrivetevi al canale di recenso trovate il link qui sotto vado a vedere cosa si mangia oggi perché sto morendo di fame chissà se è l'antistaminico o l'idea che mi sia rimesso a dieta mi sto facendo dare i numeri buongiorno buongiorno si vede che mi sono svegliato e che ho riposato buon pomeriggio ragazzi purtroppo nel combattimento feroce e estenuante tra me e l'antistaminico ha vinto l'antistaminico e quindi mi sono fatto tre orette di sonno cosa che faccio solo la domenica normalmente ma vabbè così è andata e mi mancano due esami stavo per fare appunto il penultimo quello che mi ha dato problemi ieri e poi quello da 24 25 domande odiosissimo il mostro me lo sono tenuto per ultimo però siccome non appunto non mi sono sentito proprio ho completamente riposato oggi pomeriggio l'unico problema è che nel dormiveglia pensavo si stesse rompendo il computer perché all'improvviso ho iniziato a sentire bum 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 pensavo quindi che si fosse rotta la ventola una delle ventole invece ho scoperto che era di nuovo il caro signore al piano di sotto il quale come era già stato detto e mi sa che forse l'ho tolto dai video precedenti questa cosa per evitare problemi ora lo dico se ne frega altamente che il suo ventilatore a soffitto fa rumore e quindi quando c'è caldo lo accende fischiandosene di procurare fastidio agli altri ergo significa che dobbiamo starci e che dobbiamo sopportare ovviamente questo interessa a lui ovviamente domani vado di nuovo dall'amministratore oggi no perché è chiuso a quest'ora domani vado di nuovo dall'amministratore e poi si vedrà il da farsi a me quello che mi sposta non è che lui usi il ventilatore infischiandosene è che ha esplicitamente detto all'amministratore che lui non aggiusterà nulla però poi se si fa rumore la sera tardi si incavola perché deve dormire evidentemente preferisce sentire il rumore familiare del suo ventilatore al soffrire al caldo e quindi che gli vogliamo dire di più ma vabbè lasciamo stare siccome prima di pranzo ho montato il video di recenso come vi ho detto prima in realtà mi manca veramente poco per completarlo per cui lo completerò stasera l'unica cosa che voglio completare al momento sono telefono sono gli esami perché 0 2 perché così me li tolgo di mezzo questo è un call center io non rispondo non mi vedete ben illuminato perché voglio farvi vedere lui il mostro che ieri mi ha rotto l'anima per un'ora e mezza ma sono tolto di mezzo sì in questo momento sto cliccando inviami l'attestato dell'ultimo esame che ho fatto e con questo spero siano finiti ok tolto questo tolto questo tolto questo mi proda il naso vediamo se ora me ne suggerisce ancora aggiorniamo pensavo di aver finito un'ora e mezza fa invece all'improvviso me ne è uscito un altro e quindi proviamo a vedere completato possiamo tornare alla serietà non posso sparare trick e track e tutto il resto ho finito ma che cosa bella non ci credo che cosa grandiosa vediamo il mio profilo che dice dovrei essere riuscito a completare tutto ma vabbè home page tutto completato ma non ci credo è finito che gioia ok basta allora ragazzi visto che ho finito i caspiti qua da domani posso tornare a progettare di nuovo e a stilare finalmente una linea guida di tutte le cose che ho da fare come avevo detto a metà della settimana scorsa ma stavolta assegnandomi anche delle tempistiche per poterli finire delle date di scadenza per le consegne che devo fare a me stesso ma va bene lo stesso anzi meglio così evito di ritrovarmi sempre a lavorare per lunghi periodi visto che non c'è nessuno che mi controlla ma in realtà dovrei controllarmi da solo cosa che normalmente faccio ma appunto non sempre ci riesco perché come vedete vengo preso da altre cose e queste altre cose hanno una data di scadenza molto repentina va bene che gioia in tutto questo oggi codino non è riuscito ancora a fare il caccomo ieri sì decisamente sì io spero che ora che scenda riesca a fare perché non va bene che fa un giorno sì un giorno no proprio non va non va non va oggi tra l'altro tra le altre cose è anche la memoria di falcone borsellino i due magistrati che sono stati uccisi assieme alla loro scorta sono stati uccisi perché la mafia non li voleva tra i piedi ho ascoltato il discorso appoggio qui ho ascoltato il discorso del presidente mattarella mi è piaciuto veramente tanto forse anche per il fatto che lui ha perso un fratello a causa della mafia era un discorso molto sentito quello che ha fatto ogni anno il telegiornale le trasmissioni dicono sempre le stesse cose per cui diventa una alle volte anche una celebrazione sterile inutile ma io ci tengo mi emoziono e soprattutto mi commuovo per questa memoria e per la memoria di tante altre persone che forse più di tanti meritano l'appellativo di servitori dello stato perché lo stato è questo è quello dove vince la legalità vince la giustizia vince l'equità e laddove non c'è spazio per le mafie per le camorre per tutto il resto che non fa vivere l'uomo libero ma anzi lo assoggetta sempre di più a poteri che non lo rendono libero e non lo aiutano ad autodeterminarsi ad autodefinirsi lo rendono schiavo quando si uccide qualcuno per qualunque ragione sia per qualunque ragione lo si faccia per qualunque credo filosofico o religioso venga spinto questo questa azione è sempre sbagliato e si deve sempre condannare un gesto del genere perché una vita è preziosa anche se non conosciamo cosa porterà alla comunità tutta ma appunto non non siamo nulla e non siamo nessuno per poterci permettere di togliere la vita a qualcuno perché ha idee diverse dalle nostre soprattutto obiettivi e modi di vivere diversi dai nostri stamattina ho sentito anche che purtroppo c'è stata una un altro attentato a manchester durante il concerto di eriana grande ci sono sono sbaglio 22 morti e 59 feriti questi sono i dati che mi sono arrivati che sono riuscito a raccogliere finora cosa bisogna dire non si può dire nulla perché purtroppo finché il pensiero di un che io debbo vincere e vivere a scapito degli altri queste cose succederanno sempre ci saranno sempre attentati a sfondo di religione sempre attentati a sfondo politico sempre attentati a sfondo mafioso tutto questo si racchiude a nella categoria di sfondo egoistico e penso che quindi sia questo il tratto che unisce tutti queste morti siamo nel 2017 2017 non è possibile che continuiamo a odiarci di questa maniera e a prevaricare l'uno sull'altro di questa maniera il mondo è talmente grande che ognuno di noi potrebbe fare quello che vuole senza rompere le scatole agli altri e invece ancora non ci riusciamo quindi concludo questo mio vlog di oggi questa mia giornata con un pensiero a tutte le famiglie che sono state distrutte per l'egoismo degli altri e a tutti gli altri il mio pensiero va anche a quegli altri che hanno distrutto per il proprio egoismo perché non si combatte la violenza con la violenza con altra violenza la violenza porta solo altro dolore e altra morte io vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa mia giornata ricordatevi che se avete suggerimenti potete lasciarmeli nei commenti qui sotto e fatemi sapere che ci siete cliccando il mi piace ci vediamo domani ricordatevi di iscrivervi a questo canale a quello di orad e di recenso se ancora non avete fatto alla fine di questa puntata trovate il collegamento mi sono dimenticato di farlo per le altre perché purtroppo stavo in fiera e quindi mi sembra anche inutile ora modificarlo il collegamento finale ma ci vediamo domani tante buone e care cose meno egoismo più al turismo per un mondo migliore perché questo sia vero lunga vita e prosperità qualche valore nel frattempo nel frattempo sono quasi aiutato fa un caldo del diavolo come vi dicevo questo video si insitole a